Siamo con Marcello Simoni, prossimo all'uscita di un nuovo libro, si chiama La prigione della monaca senza volto, ennesima produzione appunto di questo grande scrittore del nostro territorio. Marcello, allora, di cosa parla questa prigione e chi è questa monaca? Siamo nel 1625 a Milano, vi si reca l'inquisitore Gironamo Svampa, che abbiamo già conosciuto in altri due romanzi, e si trova a indagare su una serie di delitti che riguardano delle monache di clausura, che vengono trovate pietrificate. È un'ambientazione molto particolare, perché siamo nella Milano manzoniana, la Milano del 1600, la Milano della monaca di Monza, che compare nel romanzo, e di Federigo Borromeo, che a sua volta compare nel romanzo. Sono personaggi di Manzoni, personaggi sui quali mi sono vendicato, perché i Promessi Sposi è un romanzo che ho odiato da ragazzino, perché era il malloppone con gli esercizi alla fine di ogni capitolo, poi l'ho riletto e l'ho amato, e qui naturalmente ho dato una mia interpretazione anche basandomi su quelle che sono delle ricerche storiche, perciò non troveremo Gertrude, ma troveremo Marianna De Leiva, che era il vero nome della monaca di Monza, che in questo romanzo si trova ancora murata viva, e dunque parlerà al protagonista attraverso un muro. Allora, quindi una ricerca storica, come si lega un po' a tutti i romanzi che hai scritto, e che tra l'altro, possiamo dire, uscirà il 5, ma hai già presentato ieri, ieri un'anticipazione su Zara, com'è andata? Ma è andata benissimo, poi su Zara, Palo Roversi, il Nebbia Gialla, sono dei legami d'amicizia, è quasi un must per gli scrittori di narrativa gialla recarsi in questo festival, dove ieri c'era anche Lucarelli, c'era anche la Paris, c'erano diversi autori stranieri, e favorevole la pioggia ha attirato un sacco di gente, perché avevamo il teatro veramente gremito di persone, perciò è stato anche un enorme piacere condividere questo momento, perché quando poi un romanzo esce, gli ultimi giorni sono veramente pesanti, sono veramente difficili da sopportare, e perciò condividere questo momento con dei lettori, con degli amici, è stato un momento di gioia. Questo nuovo testo come si lega ai precedenti? È il terzo romanzo che pubblico per i Naudi Stili Libero, è il terzo romanzo che vede come protagonista l'inquisitore Girolamo Svampa, che mi trova a dover fare ricerche su un 1600, su un secolo molto difficile, perché spesso viene anche tralasciato dai romanzieri, viene tralasciato anche dai ricercatori, e che invece è un secolo pieno di suggestioni, perché è il secolo della stregoneria, è il secolo in cui l'inquisizione è più potente, è il secolo degli intrighi, è il secolo in cui l'arte del duello diventa veramente un'arte, quasi come una danza, e soprattutto quando abbiamo delle ambientazioni come Milano, una Milano che era molto simile a Venezia, perché era la Milano dei Navigli, e la Milano degli Edifici, la Milano degli Spagnoli, ecco che il 600 diventa anche uno splendido sfondo per gli intrighi. Questo appunto è il testo che uscirà tra un paio di giorni, possiamo anticipare invece eventuali nuovi futuri lavori che ti vedranno la protagonista? C'è già qualcosa in cantiere? Allora, ho già finito un lavoro che verrà poi pubblicato a parte, un saggio, una cosa molto particolare, e sto invece lavorando al terzo romanzo dedicato al ladro Tigrinus della Firenze del Quattrocento, che uscirà poi quest'estate, perciò sono costantemente al lavoro.